Ho preparato 500 Vedi la consistenza? Nella sostanza è un grande inoculo batterico E quindi viene dato al suolo questo Quindi devi pensarlo proprio come un indirizzo alla vita microbica del suolo Questo succede E poi la capacità di digerire i sovesci Di far assorbire le radici quello di cui hanno bisogno E' anche un modo per riparare ai danni che facciamo noi con le lavorazioni Distruggendo la struttura superficiale del terreno quando capita e si cerca di non farlo La stratigrafia naturale proprio della terra Ma però purtroppo quei trattori che sono dentro la macchina Grazie a tutti